Bentornati, nuovo appuntamento di SOS a Rezzo TV con Beppe Marconi sempre più in alto. Ci siamo avventurati. Oggi è una bella giornata, finché regge, perché sembra che il tempo cambia anche oggi. Comunque sia, siamo in campagna, si sta bene, no? Guarda, veramente. Siamo in montagna qui, più che in campagna. Sì, siamo in campagna e montagna. Campagna e montagna. Siamo praticamente quasi in cima a poti. Sì. Perché sai che c'è stata questa, sai, l'avevi visto anche te come tanti in TV, non so se l'hai visto in TV, questa tappa del Giro d'Italia. Bellissima è stata. Bellissima, che è passata anche da queste parti. Si vede. Si vede, che hanno fatto le strade. Sì, veramente belle. Guarda, è più bello lo stilato che l'asfalto. Veramente un bel lavoro fatto, dai. Abbiamo fatto una bella figura, dai, come rezzo questo fatto. Bellissima figura. Però questo passaggio del Giro d'Italia, diciamo, ci ha ricordato una pagina industriale che sapevamo esistesse, ma che magari poi ce ne scordiamo, che è quello dell'acqua, lo stabilimento della famosa acqua Fontemura, che ormai è chiusa da tanti anni. Anni fa ci fu anche un blitz, ricorderai, della forestale. Poi un ragazzo cadde dal tetto per fare il soft air. Ci fu una serie di episodi che portarono a una sorta di sequestro. Però, insomma, adesso tutto in mano alla curatella fallimentare. Non si riesce a vendere quest'area. E quindi è rimasta così. Non si sa neanche se all'interno ci siano o no, magari, rifiuti pericolosi. Quindi anche questo non c'è mai stata una bonifica, a quanto pare. Vabbè, la curatrice fallimentare sicuramente saprà quello che c'è all'interno, saprà quello che ha preso in mano, perché è a credere le responsabilità. Quindi sicuramente si sarà premunita per far sì che tutto sia abbastanza in regola. Che non c'è da Fogliano. Ha visto Fogliano l'incendio che c'è stato? L'Axtab. Esatto, anche lì. Quello che è fallimentare è uscito, è successo quello che è successo. Non si sa perché, comunque sia. Ha creato un danno ambientale enorme, oltre che un danno materiale alla fabbrica. Ma quel tetto lì, secondo te, di che cosa è composto? È difficile vederlo da qui, però. È Eternit, una parte... Quindi l'amianto. È Eternit e mianto di qua e di là la miera. Intanto per iniziare c'è l'amianto. Vabbè, ma è dappertutto, Fabio. È dappertutto, negli anni 60-70 è stato messo dappertutto l'amianto. Andrà per il mosso, non è quanto meno. No, andrà per il mosso o messo in sicurezza. Non è necessario rimuoverlo, ma se non altro dargli i manti di vernice apposta per metterlo in sicurezza, oppure una copertura sempre in la miera che lo metta in sicurezza. Niente, ma d'altronde mi capisci che se c'è il corotore fallimentare, il corotore fallimentare deve provvedere alla vendita. Non sicuramente... Alla messa in sicurezza minima e poi deve provvedere alla vendita. Il problema è che qui l'acqua non è quella mega acqua che si parla. Tutto lì il problema... Sono tutti pozzi, perché non sono sorgenti naturali, ma sono pozzi che vanno a profondità di centinaia di metri e viene estratta l'acqua con qualsiasi pozzo normale. Poi, lo generalmente, viene trattata, depurata e imbottigliata. Veniva, perché adesso questo punto qui è chiuso. Però, niente, quindi di conseguenza oggi ci sono altre acque e magari questa qualitativamente è peggiore, quindi non c'è nessuno che possa essere interessato a venire qua su e fare un'operazione su quest'acqua. E anche a farci qualcos'altro. Anche a farci qualcos'altro, è difficile, capirai. Anche perché per venirci ci vuole... Bravo, i costi dei trasporti sono enormi. Qui ci vorrebbe, non lo so, tanto per fare un nome, una azienda, non so quanto terreno ha, tipo Aboka, che ci produce materiali prodotti che oggi vanno per la maggiore, che devono essere fatti in queste zone. Ecco, qualcosa del genere. Un bello shampoo a fonte mura, ti piace? Perché no? Però, questo purtroppo, non so neanche quanto è il costo della vendita. Mi paghi sui 600 mila, non vorrei sbagliare. Sì, però non conosco la fabbrica, non conosco l'ambiente, non conosco niente, quindi di conseguenza non so neanche se è troppo o se è poco. Il problema è che non è solo il costo dell'acquisto, è il costo che... E' la ristrutturazione poi, è come quando compri una casa vecchia. Quando hai compratto una casa vecchia non hai fatto niente. Quando sei arrivato a fare il grezzo, hai speso un poco, il bello va a venire, è tutto così. Si vedono ancora i silos, vedi? Sì, sì, sì. Qui accanto ci sono... Ma ho tenuto l'acqua perché mi ha pompato la Pozzi, messa sicuramente nel silos e poi lavorata e imbottigliata. Niente, non è più economicamente valido, quindi... Quindi, lì c'è che ci troviamo, questa bomba ecologica, veramente nel verde di Pozzi. Esatto, esatto. È nata negli anni Sessanta, mi sembra, la Fonte Mura, con scopi abbastanza importanti. C'era anche la Fonte Petina qua su. Qui l'acqua sgorgava naturalmente la Fonte Petina, ma anche questa poi fu chiusa per infiltrazioni dell'acqua. E qua su che infiltrazioni ci sono? Eppure ci furono diversi controlli dell'ASL, e degli uffici sanitari che la fece a richiudere per infiltrazione dell'acqua di sostanze nocive. E questa non lo so. Non so, essendo pompata da centinaia di meriti sotto terra, sicuramente la durezza era abbastanza particolare. Comunque, il che mi fa pensare, proprio perché non era una sorgente naturale, l'acqua è estratta dai Pozzi. Insomma, all'epoca chi ha dato queste autorizzazioni, è vero che non c'era la mentalità di oggi ecologica. Ma ci sono anche oggi che vengono stati da Pozzi. Però insomma, non è stata una grande scelta, come dire, dal punto di vista del piano regolatore. No, sicuramente no. Sicuramente non è stato fatto. Una cosa è già in mezzo a sto Verdi. Sì, sì. Gli anni Sessanta erano diversi. Era diversi, infatti, tra l'altro era il boom, il mattone, costruiamo ovunque. Peccato che però non l'hanno fatto, lo dicevamo mentre venivamo qua, perché Poti è un luogo comunque meraviglioso, che d'estate meriterebbe anche che ci sia qualche struttura ricettiva, a parte quelle abbandonate, anche l'istotica che ci sono. Esatto, esatto. Rivalorizzare questa montagna che abbiamo in casa. Beh, la come negli anni Sessanta, Settanta, come dicevo, venendo in superstrada, per Ferragosto i bus dell'Atam, allora urbana, venivano qua su, facevano una navetta per portare la gente a fare il Ferragosto qua su a Poti, che era veramente un posto molto frequentato agli aretini. Poi c'erano gli alberghi e così via. E oggi invece è completamente abbandonato, si sta distruggendo tutto, non c'è più la volontà di volerlo ristorare. C'è stato qualche tentativo, però purtroppo poi non ha... Deveva esserci la funivia, no? Mi dicevi prima. Sì, sì, negli anni Sessanta era proposta al sindaco Ducci, ma il sindaco Ducci poi non... Sì, negli anni Sessanta, che negli anni Sessanta sia questo stabilimento, no la funivia. No la funivia. Sintetizzando. Esatto. Benissimo. Bravi, a domani. Ciao. 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 Ciao.